Giovedì 5 maggio, sin dalle 9 del mattino, al Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta si è tenuto il terzo congresso territoriale Wiltux, Unione Lavoratori del Turismo, Commercio e Servizi dei Territori di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Ripartiamo da noi il tema della giornata, ad introdurre i lavori il segretario Michelangelo Mazzola, che da 35 anni vive in prima linea il sindacato e ne ha raccontato la sua esperienza con grande emozione, incentrando il suo discorso sull'importanza della parità di genere, delle minoranze culturali e dell'identità. Stiamo ripartendo da noi, mettendoci tutta la verve che abbiamo sempre rappresentato e che abbiamo avuto nei confronti di questi settori e un'unica parola d'ordine sarà quella di lottare per avere diritti e tutele ai lavoratori del settore. Nei nostri territori purtroppo ancora vige la non applicazione integrale dei contratti, lavori sottopagati, ritorsioni a coloro che si avvicinano al sindacato anche per avere delle informazioni, quindi si iscrivono e hanno ritorsioni da parte. Diciamo che la mentalità che c'è purtroppo nell'entroterra siciliano ci tiene lontani da quelle che sono le politiche sindacali delle province più grandi. Presenti al tavolo i rappresentanti della Wiltux Sicilia, Marianna Flauto, Ida Saia, Chiara Sclafani e Salvatore Bello. In collegamento il segretario nazionale aggiunto di Wiltux Paolo Andreani che ha evidenziato l'urgenza del rinnovo dei contratti collettivi nazionali guardando alla libertà e alla giustizia sociale.